Si è chiuso con nove condanne e tre assoluzioni l'appello per l'inchiesta sul traffico di droga nella Locride denominata Due Mari, che ricordiamo era stata coordinata dalla DDA di Reggio Calabria e condotta in sinergia tra la Guardia di Finanza, la Polizia Nazionale Colombiana e l'Agenzia Antidroga Americana DEA. Per quanto riguarda le tre assoluzioni, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha proceduto con la formula per non aver commesso il fatto per Attilio Vittorio Violi, condannato in primo grado a 30 anni di reclusione. Assolti anche Kylie Sultan Meri e Giuseppe Cosimo Monteleone. Condannati gli altri nove imputati ma con pene rideterminate. Le condanne riguardano Marius Daniel, Enzo Pescetelli, Francesco Pellegrino, Alba Mariella Osorio Ospina, Bruno Palmisano, Pasquale Virgara, Andreas Fernando Ramirez, Franco Monteleone e Giuseppe Grillo. Per il deposito dei motivi della sentenza i giudici hanno riservato il termine dei 90 giorni, anche se i difensori hanno già preannunciato l'impugnazione della sentenza in Cassazione.